Buonasera, buonasera a tutti, eccomi per il video della domenica, attesissimo suppongo, ma ancora in questa veste grafica col viso poco definito, ma accontentatevi, domani torniamo alla definizione usuale, ma accontentatevi perché quello che appunto sono i contenuti e i contenuti ci sono tutti, guardate dietro di me questa, mi sposto ma poi parliamo di tutti gli argomenti, questa non è una carta di immagine di repertorio di qualche grande ondata di gelo del passato, ma è la previsione del modello europeo, il più performante modello europeo di questa sera, guardate qua cosa ci ha proposto, anche stamattina la illustrava bene, vi faccio questa anticipazione, questa è il finale del modello europeo, dopo tutto il maltempo arriva, altro maltempo, ma con connotati freddi, seri, seri, perché c'è una meno sedici, un nucleo già da meno sedici a mille e cinquecento metri di quota che entra nel Mediterraneo, guardate con quale isoterme, sono meno sei, meno otto al nord, la zero che arriva fino al sud Italia, con una bassa pressione qui sotto la scritta neve, e insomma, adesso ve la illustrerò, e sarebbe un epocale finale, diciamo, sarebbe un vero e proprio irruzione invernale, perché comunque avviene, lo vedete il 13 marzo, prima della metà di marzo, prima metà di marzo, ancora c'è tutto lo spazio per avere ondate di freddo serie, certo poi la neve non vi aspettate duri al suolo settimane, se ne va dalla sera alla mattina va bene, però sarebbe qualcosa di davvero interessante, e tutto questo dopo quello che sta accadendo adesso, perché oggi è una giornata epocale per alcune regioni, per alcune, con un forte peggioramento che è entrato, una perturbazione che è scesa dalla Francia, ha creato un minimo di 995 ectopascal a sud della costa azzurra, e sta macinando nevicate copiosissime nel, sostanzialmente su tutto l'arco piemontese, esattamente come ha annunciato la Val d'Aosta, canton Ticino, anche le parti occidentali della Lombardia, e nevica in maniera veramente fitta, e le previsioni sono per un finale di un metro e mezzo e passa in alcune località, abbiamo visto la Magugnaga postato versante orientale del Monte Rosa in Piemonte, tutti i settori esposti alle correnti sciroccali, in quota stanno beneficiando di nevicate davvero copiose. Poco fa, mentre io sono a Roma, mentre parlo, è appena terminato un temporale, una vera e propria squalline è passata, non particolarmente intensa, su Roma, ma comunque l'atmosfera è davvero instabile, si succederanno altre perturbazioni, e poi c'è questa incogna, l'incogna da freddo con alta pressione che rimonta in Atlantico, quello che deve succedere, è semplice avere il freddo alla fine, basta, come ho detto io, a questione di assetti barici, basta che in luogo dove ci sono gli affondi perturbati ci sia un'elevazione di un'alta pressione, che tutto il freddo che è ancora molto ben presente in Artico, anzi, ci sono settori come le Sbalbard, c'è tutto ciò che è intorno a oltre il settantesimo parallelo, le Sbalbard sono addirittura all'ottantesimo, raggiungono le temperature più basse nel mese di marzo, perché sarebbe la lunga notte polare, c'è un albo, un tramonto, questa sarebbe l'alba, il 21 marzo l'equinozia e l'alba, quindi il momento più freddo per il polo, il momento più freddo è proprio intorno a questa metà di marzo, quindi se l'aria fredda scende da dove deve arrivare per avere il giusto freddo, tranquilli che anche marzo ci può regalare grandi ondate di freddo. Vedremo come andrà, ma intanto veniamo a quello che c'è dell'attualità, quello che c'è ora, perché è fantastico ciò che stiamo vedendo. Allora, guardate qua, eccolo l'affondo perturbato, me lo metto bene, guardate il vortice a sud proprio della costa azzurra, come macina, nubi, come ne crea, come impatta al nord-ovest, concorrenti a spiccata componente orientale, quindi impattano nella parte italiana, nei versanti italiani delle Alpi, molto piaciuta al nord-est, alcuni amici, follower si lamentano che il nord-est, la Romagna ad esempio, gli altri follower della Romagna, è chiaro che in questa condizione ora è sfavorita, ma dopo le precipitazioni arriveranno. Adesso tutto l'impatto è sul Tirreno, il nord-ovest contemporane al centro, ma stanotte, stanotte arriverà la neve anche sull'Apenino centrale e vedremo a che quota, nemmeno troppo alte, anzi, vi faccio vedere, scusate, vedete ancora temporali a sud di Roma, temporali qua sotto l'Imperiese, la costa azzurra e piogge, tutto l'allineamento delle piogge costanti che si estende appunto da Roma, dal Lazio fino a tutto il Piemonte, ma vedete anche poi la Lombardia, insomma, non è finita, dicevo non è finita perché ecco l'esmissione del modello europeo, guardate adesso, questa è delle tredici di oggi, il minimo che pompa correnti sciroccali sul nord-ovest, vedete domani, domani si sposta tutto al centro, prima di andarsene via, fino a domani, nelle ore centrali, ancora in stabilità al centro, con piogge e abbiamo detto nevicate, ma anche sull'Appennino Meridionale, in parte, ora ve le farò vedere, per tutta la notte, le prime ore del mattino, ma poi non è finita, e guardate qua, pausa, martedì, mercoledì, altra, comunque sempre una zona di bassa pressione, c'è, giovedì arriva un'altra perturbazione sulla Spagna, venerdì è già, di nuovo, sul nord-ovest, sabato, forte peggioramento, forte, di nuovo, ennesimo weekend col maltempo, sul nord-ovest, ed eccola che entra, il nuovo forte peggioramento domenica, su tutto il centro-nord, secondo il modello europeo, che non scherza affatti in queste previsioni, e il meglio arriva dopo, guardate, ecco, si aggancia, qui si isola un provventore di alta pressione, la depressione atlantica si aggancia col possente flusso gelido, questa volta è davvero gelido, vi faccio vedere anche l'isoterme, e poi lo dirotta verso di noi, e questa volta prende bene tutto il centro-sud, guardate come entri, dal nord al sud, entri un lobo gelido artico continentale, a fine emissione, magari non si ripete tutta l'emissione, però vedete che i dieci giorni, queste sono le temperature, ora, vedete, saranno intorno allo zero stanotte a 1500 metri sull'Appennino, potranno nevicare quindi molto più in basso, poi ancora intorno allo zero al nord, mercoledì, giovedì, pausa, venerdì e poi sabato, entra il maltempo, ancora col caldo, ma poi ecco l'aggancio finale, guardate, meno 16, meno 18 nel nord entra, ed entra proprio sull'Italia, vedete, 0, meno 2, meno 4, meno 6, meno 8, su buona parte del nord e del centro, che isoterme, vi faccio anche vedere per sfiziarci un po', questa prendetela con le molle, è chiaro che è la distribuzione delle neve al suolo prevista dal modello europeo, vedete l'Appennino centrale stanotte, un po' di più, poi durante la settimana continua qualche spruzzata di neve, oltre a quelle abbondantissime di ora, intendiamoci, vedete le Alpi come sono piene, ma poi guardate, eccolo, guardate il finale, con l'irruzione del nucleo artico continentale che riempie anche l'Appennino centrosettentrionale, e insomma, avete visto, cioè che cosa prevede solo il modello europeo, ma anche quello americano, magari questa emissione del modello europeo particolarmente fredda nel finale, va bene, però, diciamo, l'impianto è proprio questo, ancora peggioramenti, un altro a metà settimana, interrogatorio, poi arriva un peggioramento ancora più forte nel prossimo weekend, simile a questo, a Ennesimo, il terzo, ha ancora carico di neve sulle Alpi, e poi c'è questo gran finale della quota del modello europeo, che potrebbe significare anche forti nevicate sull'Appennino centrosettentrionale, a quote basse, il freddo vero che arriva, abbiamo visto l'esoterme, la meno 8, che non ha fatto poco, che entra al centro-nord, insomma, arriva roba di tutto rispetto. Quindi, questo è ancora il finale da confermare, ma tutto il maltempo che c'è prima, le nevicate che ci sono adesso e che ci saranno ancora fino a domani, nelle ore centrali della giornata, sulle Alpi, e che porteranno a degli accumuli, diciamo, che su alcune zone, diciamo, il Piemonte specialmente, che non si vedevano da molti anni, davvero molti anni. E quindi, che vogliamo fare? Ancora c'è tutto da vedere, avete visto la stagione che per chi la dava conclusa c'è tutto, quindi iscrivetevi innanzitutto al canale YouTube, eh, non fatemi questo scherzo, abbonatevi a Instagram e YouTube, chi vuole, ma l'importante è iscriversi, non costa nulla, vi disiscrivete quando volete, eh, vi dicevo già ieri, vi accennavo alle t-shirt, ma ce ne sono di bellissima, ma andiamo per gradi e sarà il momento giusto, eh, ma attenzione, quindi tutto è in gioco, abbiamo ancora dieci giorni di cui non si vede, eh, tornare l'alta pressione, quindi è chiaro che ci saranno sprazzi di sole, ci saranno anche temperature miti, ma in un contesto sempre depressionale, in cui comunque il peggioramento sarà sempre alle porte, quindi seguite, eh, c'è questa inversione di tendenza, eh, può capitare, dopo un lungo periodo di, eh, alta pressione e di, eh, bel tempo, eh, con una situazione bloccata, ora c'è un blocco, ma in senso opposto, c'è un canale depressionario che dalla Gorillandia si porta al Mediterraneo centrale, questo canale depressionario potrebbe avere poi un'evoluzione che prevede, eccola, un'alimentazione poi artico-continentale, ora è aria polare marittima. Adesso, specularmente, poi diventa artico-continentale, cioè provenire da qua, da questo quadrante a nord della Scandinavia e venire giù. E allora, in questo periodo, a marzo, eh, l'area artico-continentale è la più fredda in assoluto, mentre in inverno, in gennaio, per esempio, anche la polare continentale, che sarebbe un po' più bassa di latitudine, qui che proprio viene dal basso piano russo, eh, è quella più fredda, forse, perché il continente si riscalda molto. L'ideale, appunto, quando l'area artico-continentale attraversa tutto il basso piano russo e poi si ripresenta a noi da nord-est, eh, ed entra nel Mediterraneo centrale. E adesso, insomma, si prevede qualcosa di molto interessante. Un abbraccio a tutti, ma continuate a seguire, perché la cosa si fa molto interessante. Ciao, ciao, a dopo. Ciao, ciao.